Ciao Lorenzo, ben ritrovato. Innanzitutto se volevi rivolgere un augurio di pronta guarigione al tuo compagno Flavius. Sì, sicuramente. Ho saputo da qualche giorno che ha dovuto subire un'operazione. Spero di rivederlo il prima possibile. Probabilmente ci vedremo a Salerno e spero possa rientrare il prima possibile in gruppo con noi che sicuramente ci può dare una grossa mano. Che cosa significa per te giovanissimo essere riscattato a titolo definitivo da un club come la Salernitana che vuole consolidarsi in Serie A? Un piacere, un onore, una responsabilità, una sfida? Sì, è un po' tutto quello che hai appena detto perché sicuramente venivo da anni dove ero di proprietà dell'Inter ma giravo in prestito e poi facevo ritorno sempre alla base e finito il prestito. Dopo un'annata come quella dell'anno scorso ho avuto la fortuna comunque di trovare una società che crede ancora in me, ha esercitato il riscatto. Io sono molto molto contento di rimanere qui quindi è anche una responsabilità perché comunque la società ha speso dei soldi, ha fatto un investimento però io sono pronto a dimostrare di meritare questo investimento che ha fatto la società nei miei confronti. Ciao Lorenzo, sei uno degli ultimi arrivati, sarà un'estate per te particolarmente impegnativa, un po' la delusione dell'europeo, poi qualche giorno di vacanza e adesso una nuova stagione, ti chiedo come stai anche fisicamente e poi che stagione deve essere questa di miglioramento, di consacrazione, abbiamo visto anche delle esercitazioni sulla costruzione dal basso, controllo orientato, il passaggio al trequartista, al centrocampista di riferimento, penso per esempio ad uno dei pochi nei della tua stagione scorsa che è stata una stagione straordinaria, il gol subito alla Spezia, su quello Sosa aveva detto dovete migliorare, ecco illustraci un po' che stagione deve essere per te di miglioramento e su che cosa e poi come stai, grazie. Ma allora mi sento bene, abbastanza bene, sicuramente non sono ai miei livelli, neanche fisicamente perché comunque sono arrivato una settimana dopo gli altri, è stata un'estate particolare perché c'è stato l'europeo fino a fine giugno, poi sì ho avuto qualche giorno di vacanza e poi sono arrivato una settimana in ritardo, in ritiro, però sto abbastanza bene, adesso tempo qualche giorno, finisco a ritiro e mi metto sicuramente al pari degli altri. E per la stagione non è che deve essere una stagione di consacrazione perché ho fatto solo una stagione in Serie A, quindi non mi sento di dovermi consacrare, ho molto da migliorare, sia nei miei punti di forza che soprattutto nei miei punti di debolezza, so quali sono, lo sa anche il mister, lavoriamo come avrete visto anche oggi, facciamo delle esercitazioni più specifiche apposta per migliorare e allenare questo punto di vista e mi ritengo fortunato che posso migliorare anche con l'idea che ha il nostro allenatore e quindi mi metto a disposizione e sono sempre pronto a migliorarmi soprattutto sulle mie carenze. Lorenzo, ti volevo chiedere questo breve ma intenso ritiro, insomma questa almeno prima parte che arrivi Sondoli, come stai, ti abbiamo visto anche piacevolmente emozionato nei giorni scorsi quando al Villaggio Granata hai incontrato i tifosi, hai anche visto una maglia azzurra, hai firmato palloni, magliette, quindi ti volevo chiedere questo e poi come può cambiare secondo te questa nuova linea che sembra dettare Paolo Sosa, la difesa 4 poi a 3, tatticamente come ti senti meglio schierato in campo? Grazie. Fa sempre piacere, parlo della tua prima domanda, per un ragazzo giovane come me sentire l'affetto di una piazza e una tifoseria così importante, comunque sentirsi apprezzato dalla gente è sempre piacevole, bisogna meritarselo secondo me, però ovviamente vedere i bambini così che ti chiedono gli autografi e le foto è una bellissima sensazione. Poi per il ritiro sì, stiamo provando sia a 4 che a 3, io ho prevalentemente giocato con la linea a 3 negli ultimi anni, ho fatto un anno con il mister Brocchi a Monza anche a 4 da centrale, quindi mi metto a disposizione e sceglierò ovviamente il mister quale modulo sarà il migliore per noi e cercherò di farmi trovare pronto sia se dovessimo giocare a 3 che se dovessimo giocare a 4. Ciao Lorenzo, parlando di nazionale hai condiviso l'esperienza con un tuo compagno che è anche qui, che è Matteo Lovato e quindi ti chiedo anche come sta lui, perché l'anno scorso è arrivato chiaramente con grandi aspettative perché è un ragazzo forte, però ha avuto una stagione sfortunata, quindi so che avete un bel rapporto, come sta anche lui mentalmente, fisicamente, che cosa, insomma anche per lui deve essere una stagione importante provando a replicare quello che hai fatto tu l'anno scorso. Sì, sicuramente con Matteo è un bellissimo rapporto, per lui sì, purtroppo è stata una stagione soprattutto sfortunata secondo me, già all'inizio dell'anno scorso il ritiro ha avuto un brutto infortunio alla Caviglia, comunque star fuori tre mesi della prima parte della stagione ti condiziona, poi quando era rientrato ha avuto altri problemi, quindi è stata una stagione un po' difficile per lui, l'ho visto molto bene in questa settimana qua di ritiro, ha voglia sicuramente come me di mettersi in mostra perché siamo due ragazzi molto giovani che dobbiamo ancora dimostrare tantissimo e niente, siamo qui per metterci a disposizione e aver voglia di dimostrare tutto il nostro valore. Sì, mi presento, sono Raffaella Serro di tutto Salernitana, dunque abbiamo visto che Mister Sosa ha provato questa linea difensiva a 4 e come hai detto tu prima hai giocato quasi sempre con la linea 3 sia al Monza che nello scorso campionato, ma secondo te la Salernitana con questi terzini come Mazzocchi, come Bradaric che comunque hanno doti più di spinta anziché di copertura difensiva, secondo te la Salernitana ad oggi come può giocare con la difesa a 4? È in grado? Hanno questi giocatori le caratteristiche giuste per giocare con la difesa a 4? Ma secondo me siamo tutti giocatori che abbiamo ovviamente la nostra posizione tra virgolette preferita e ci sentiamo meglio in determinate situazioni. Sicuramente abbiamo fatto 4 mesi con Mister Sosa gli ultimi 4 mesi molto positivi giocando a 3, adesso comunque stiamo provando anche a 4 perché anche l'anno scorso ci è capitato di finire delle partite a 4 e quindi sicuramente con i nostri terzini che abbiamo, con le caratteristiche dei nostri terzini sono molto di spinta, però secondo me se si continua a lavorare, si limano i dettagli, sicuramente anche per l'organico che abbiamo possiamo giocare anche a 4. Ciao Lorenzo, buongiorno, Giuseppe Mautone, Telespazio. Ti volevo chiedere, sei andato in gol nella gara interna con il Sassuolo, sei andato in gol anche nella fase finale dell'europeo, nell'immediato futuro ti vedi più incisivo nell'area di rigore avversaria? Ma sicuramente spero di sì perché spero innanzitutto di non prenderli gol, ragiono sempre così perché credo che un difensore debba ragionare così, spero di far più clean sheet possibili. Poi se dovessero anche arrivare i gol, ben venga, sicuramente quest'anno ne ho fatti 3, 2 con la Salernitana, uno con la Nazionale Under 21 che secondo me è un buon bottino per un difensore, quindi sì, spero di far più gol possibili, però come ti ripeto spero di non prenderli prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.